Torna all'emergenza freddo, temperature rigide soprattutto nelle ore notturne, proprio per questo ad Arezzo a breve riaprirà il dormitorio di Piazza San Domenico. La nostra un po' urgenza e premura è quella di poter aprire nel miglior modo possibile e già per il terzo anno consecutivo destinare i locali dell'ex asilo aziendale a questo tipo di servizio, che comunque è un servizio utile e importante per tutti coloro che sono senza dimora e che abitualmente stanno all'agghiaccio e comunque all'aperto anche durante tutto l'anno. Dal 3 dicembre prossimo fino al 7 di aprile è intenzione appunto della Caritas o con tutto il mondo del volontariato e volontari stessi potersi riorganizzare per offrire di nuovo questo servizio. Facciamo un appello alla città, ai cittadini di buona volontà, a tutti coloro che sentono un po' il desiderio di potersi mettere a disposizione per un servizio notturno di sorveglianza o anche per le stesse pulizie dei locali perché la struttura appunto sarà aperta in modo continuativo, festività comprese e tutti appunto per tutto questo periodo dei 4 mesi in modo ininterrotto. Quindi c'è bisogno di forze umane per poter tutti insieme garantire un servizio decoroso, caldo, un punto di accoglienza temporaneo per questo prossimo inverno. Anche perché è un servizio che si regge solamente sul volontariato. Sì, c'è un coordinamento degli operatori della Caritas che garantiscono un po' il tenere le fila di tutti i volontari che poi quotidianamente si alternano a questo servizio. Quindi il volontariato è la colonna importante su questo e l'importante è che ci sia anche un buon coordinamento, una buona anche strutturazione per poter garantire al miglior modo possibile tutte le fasi del servizio stesso. 24 i posti letto messi a disposizione per il clochard della città nel 2017 e sono stati 2.800 gli accessi che si sono registrati nei 4 mesi di apertura e circa 80 le persone che hanno così trovato uno spazio al caldo e al riparo dove trascorrere la notte. Potranno accedere tutti coloro che sono in uno stato di senza dimora, che sono stanziali un po' nel nostro territorio. Il centro di ascolto diocesano farà da filtro e da rilascio dei pass per permanere nella struttura con dei pass che sono validi 15 giorni e al bisogno poi rinnovabili.